a nonna ve l'han imparata sa mamma, nonna vidi dei su millenio quintos e chimbe mi contai io tutto, ho detto che mi sembra di metterlo, non vivo né la televisione né la radio con una malattia nuova Tenta, laia è benedigata, vieni del frate e l'agno è molto male Da che gli ho messo sette anni che l'hanno avuto, è il suo padrone, il suo demonio, non è più il suo padrone. E dopo che cominciano a raccontare questa gente, che mi sentivano una cosa, questa gente di mia, non è minore, ecco la mia, però da voi. Hai cominciato a raccontare? Mi sento. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pancetta. Ah, per una donna.